Appena fuori dalla città di Verona troviamo la cantina Erele Musella, ad accoglierci Emidio Pasqua. La Musella è una realtà di 400 ettari che è stata conservata in quanto unica proprietà da questi duchi d'acquarone. Io sono entrato in punta dei piedi nel 1995 e ho realizzato il mio sogno che era quello di fare un vigneto per ottenere un prodotto di qualità secondo i miei canoni. Ho avuto la fortuna di avere una figlia che è appassionata della biodinamica e quindi ho lasciato che mia figlia sviluppasse l'azienda in funzione di questa filosofia. Perché la biodinamica non è solo un sistema di coltivazione ma è anche un modo di pensare. Oltre al pernotamento da voi è possibile pernotare una visita guidata alla cantina. Come avviene questa esperienza? Noi abbiamo recuperato questa corte del 600 che ovviamente era quello che era. Ho una moglie che ha il pallino dell'architettura e ha recuperato tutti i locali e abbiamo ricavato 11 stanze tutte con arredamenti uno diverso dall'altro e quattro appartamenti. Quindi è una bella realtà. All'interno di questo organizziamo delle degustazioni sia per gli ospiti che anche per visitatori esterni. Queste degustazioni avvengono previa visita della cantina, anzi si comincia a far vedere, a fare un giro sulle colline dove ci sono i vigneti. Quindi si parte dalle colline e poi si scende in cantina, che è quella che si vede alle mie spalle, che fa parte della corte e si va a degustare il vino. In primis Valpolicella e poi il famosissimo Amarone. Beh allora non ci rimane che invitare tutti a venirvi a trovare e a gustare assieme un ottimo bicchiere di Amarone. Siamo qua a disposizione. Grazie e buona giornata. Vale.